Ciao a tutti, vediamo 10 caratteristiche delle persone con bassa autostima. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, quali sono queste 10 caratteristiche delle persone con bassa autostima? L'autostima, come sappiamo, determina molto dei nostri comportamenti ed è il giudizio che esprimiamo di noi stessi verso noi stessi, da noi stessi verso noi stessi. Quindi come ci autovalutiamo? Le persone con bassa autostima si valutano molto negativamente e quindi questo influisce sulle caratteristiche, sulla personalità e sui comportamenti. La prima caratteristica è la tendenza a vivere sulla difensiva, cioè diffidano degli altri. È ovvio che vedi il mondo, percepisci il mondo come ostile. Seconda caratteristica, restano impelagati in relazioni negative per loro stessi per la paura di essere abbandonati. Quindi le persone che hanno una bassa autostima temono l'abbandono affettivo. Sono incapaci di affrontare le sfide della vita, perché le sfide della vita richiedono, come dire, capacità, desiderio, forza di fare le cose. Quindi chi ha bassa autostima vive fondamentalmente l'incapacità di vivere bene le sfide della vita. Quarta caratteristica, si vergognano. Hanno una vergogna. Si vergognano di se stessi fondamentalmente. Si vergognano di tutto quello che fanno, di tutto quello che mettono in atto, perché credono di essere usciti difettosi dalla fabbrica. Quinta caratteristica, cercano l'approvazione degli altri, vogliono continuamente delle, come dire, delle approvazioni, perché altrimenti non pensano di loro essere usciti difettosi dalla fabbrica. Temono il rifiuto, hanno paura del rifiuto, sono pessimisti. Che differenza c'è tra un pessimista e un ottimista? Entrambi prendono fregature, ma l'ottimista vive bene tra una fregatura e l'altra. Il pessimista ci vive male. Ottava caratteristica, cercano le relazioni emotivamente distruttive, che vadano a confermare la bassa autostima. Se io credo di avere una bassa autostima, cioè ho una bassa autostima nel senso che mi giudico male, vado a cercare delle relazioni che confermino questa mia credenza. Noi vediamo quello che crediamo e non viceversa. Temono il giudizio altrui, sono sempre sottoposti al timore del giudizio altrui, e poi giudicano gli altri. Giudicano gli altri in che modo li giudicano? Li giudicano negativamente. Giudicano gli altri negativamente perché proiettano le loro caratteristiche verso gli altri. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!